Da 24 anni ombrelloni omaggio per le persone con disabilità a Marina di Grosseto e Principina a Mare. Grazie al progetto Mare per Tutti, anche per questa estate, il Comune di Grosseto si è attivato per dare la possibilità a tutti di godere dei benefici del mare. Il progetto è nato nel 1998 dagli stabilimenti balneari ed è tutt'oggi portato avanti grazie alla collaborazione dell'Associazione Balneari Grosseto e della società cooperativa sociale Il Melograno. 24 anni con tante persone disabili, con tanti soggiorni, già posso dire che a febbraio-maggio telefonavano persone chiedendo di aderire al progetto quando il progetto ancora non era in essere. Questo servizio che è riservato a tutte le persone diversamente abili con la 104,2 o 3 abbiamo tantissime prenotazioni, quest'anno sembra che va un po' più di moda principina. Quanti sono in totale gli ombrelloni che vengono messi a disposizione? Praticamente sono uno per tutta la stagione, per ogni stabilimento balneare aderente, per tutti i turisti grossetani, non grossetani, italiani e non italiani che vengono al mare qui da noi. Anche quest'anno abbiamo avuto un buonissimo riscontro dai bagnetti, credo siano 26 i bagnetti che hanno aderito. Cosa dici agli stabilimenti che non hanno aderito? Il prossimo anno speriamo che invece cambino idea e possano partecipare anche loro a questa bellissima iniziativa di inclusione e di supporto per quello che riguarda disabilità. Andare avanti nel progetto di Mare per Tutti ci permette di essere delle località accoglienti per tutte le tipologie di utenze di turismo e questo secondo me è un passo in avanti nel presente. Grazie a tutti.